Musica Riunione interlocutoria ieri sera su HCS, discussione rinviata alla commissione bilancio. La procura della Repubblica di Civitavecchia perde un altro pezzo trasferito a Roma il pubblico ministero Edmondo De Gregorio. Operazione Station Drag, sgominata da carabinieri, banda dello spaccio. La procura ha emesso otto ordinanze di custodia cautelare e l'astrazione di Ladispoli, centro dello smercio. Domenica, al termine dell'incontro del Civitavecchia a calcio, Massimo De Santi si ha spronato i propri tesserati a stringere la mano agli avversari, esempio di fair play. E a tutti ben trovati dal telegiornale Alto Lazio. HCS un'altra riunione sostanzialmente interlocutoria. Alla fine si è deciso di rinviare la discussione all'interno della commissione bilancio. Sentiamo il servizio. Una riunione informale a carattere interlocutorio si è trasformata in questo, dopo il blitz dei lavoratori di Città Pulita, la riunione di maggioranza su HCS. Dopo le diverse opinioni sul da farsi, vendere anche il 100% di Città Pulita, come dichiarato dal delegato alle partecipate Emiliano Santori, o salvare tutti e tutto concertando la decisione con sindacati e lavoratori, come sostenuto dal vice sindaco Enrico Luciani, alla fine si è deciso di rinviare la discussione su HCS all'interno di commissioni bilancio e partecipate fiume, così da mettere nero su bianco, ha sottolineato Santori, la posizione e le dichiarazioni di ognuno. È tempo che tutti si assumano le proprie responsabilità anche davanti ai lavoratori. La commissione inizierà a riunirsi entro la fine di questa settimana e i primi giorni della prossima. Intanto a pensarla come il delegato Santori, vendere all'unico modo per risolvere il problema è il sindaco Tidei, che, nonostante fuori città, ha preso la parola. Lavoriamo per salvaguardare i posti di lavoro e per arrivare alla vendita parziale delle società. L'unica soluzione possibile. Le alternative legate all'alienazione del patrimonio comunale non sono legalmente percorribile, perché i proventi dovrebbero essere destinati ad investimenti, non alla spesa corrente, e neppure alla decurtazione dei debiti. Il resto sono favole. Non tollereremo, ha ammonito il sindaco, atteggiamenti violenti da parte di quella fazione di lavoratori facinorosi. L'amministrazione lavora anzitutto, ha concluso Tidei, nel quadro della legalità e nel rispetto dei diritti di tutti. E intanto è attesa per oggi dai sindacati la risposta da parte dell'assessore Venanzi e dai liquidatori sul pagamento della cassa integrazione a guadagni. Nei giorni scorsi, infatti, l'Inps, come spiegato dal delegato Santori, ha fatto sapere che non anticiperà più ad HCS i soldi della cassa integrazione a causa del cambiamento delle regole. Morale e dipendenti non sono stati pagati. Ora i sindacati vogliono sapere dal comune se può fare qualcosa. Dopo 13 anni il sostituto procuratore Edmondo De Gregorio lascia la procura di Civitavecchia. Da ieri mattina è stato trasferito a Roma una circostanza che aggrava ulteriormente una situazione di carenza di personale che già affligge da tempo la procura locale. Sentiamo il servizio. La procura della Repubblica ha perso un altro pubblico ministero. Il sostituto procuratore Edmondo De Gregorio da oggi non è più nel suo ufficio all'ultimo piano della palazzina della procura della Repubblica di Via Terme di Traiano. È stato trasferito alla procura di Roma. La magistratura inquirente locale, quindi, si trova con un pubblico ministero in meno e la cosa va certamente ad aggravare una situazione già critica alla procura locale. È di appena qualche giorno fa, infatti, il grido d'allarme lanciato dal procuratore capo Gianfranco Amendola che aveva scritto al Ministero, alla Corte d'Appello e al Consiglio Superiore della Magistratura evidenziando proprio questa carenza di personale, sia togato che nonna. De Gregorio, peraltro, era titolare di una serie di indagini piuttosto delicate come quella sui corsi di formazioni fantasma ad HCS, quella dell'incendio alla centrale di Torre Nord o ancora l'ultimo sul giallo di Piazza Calamatta. Tutte indagini che adesso verranno prese in carico da Amendola. L'autorecupero della palazzina Ferrotel è una forma di partecipazione democratica e l'affermazione insieme a una richiesta del Comitato Quattro Porte a proposito della decisione da parte dell'amministrazione di demolire la palazzina che si trova nella zona del bricchetto. Nel Consiglio Comunale del 27 febbraio scorso è stata infatti votata la cessione della struttura alle RFI per una successiva demolizione e la creazione di un progetto di servizi privati di interesse pubblico come previsto dal piano regolatore generale. Ma da parte del Comitato non sono arrivati commenti entusiasti al riguardo. Anzi, è stata avanzata l'opzione dell'autorecupero abitativo della palazzina Ferrotel secondo la legge 5598 della Regione Lazio che porterebbe un risparmio per l'amministrazione senza cedere i locali alle ferrovie. E ieri mattina al Teatro Traiano più di 900 studenti provenienti da tutta Italia hanno partecipato alle semifinali delle Olimpiadi della Cultura e del Talento un evento culturale che si concluderà con le finali di Tolfa interamente finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia. Sentiamo ora le interviste a Cristiano Dionisi assessore alla cultura di Tolfa e al presidente della Fondazione Caricib Vincenzo Cacciaglia. Sentiamo. Il premio delle Olimpiadi è dedicato a Doriana Pagliarini che è stata la presidente della prima circoscrizione qui a Civitavecchia quanto è importante che questa città ospiti un evento culturale di questo tipo? Molto importante perché le Olimpiadi sono nate a Civitavecchia grazie all'impegno dei ragazzi che erano legati a Doriana Pagliarini Civitavecchia che quest'anno si riappropria un po' di più rispetto agli anni scorsi delle Olimpiadi della Cultura perché si spostano dalla nave al Teatro Traiano e poi finali che anche quest'anno, e questo siamo orgogliosi di dirlo, avranno le loro finali a Tolfa a metà aprile e quindi insomma una sinergia che sin dalla prima edizione c'è stata con il Comune di Tolfa e che continua perché questo è un evento bello che vogliamo continuare a sostenere. La Fondazione si è occupata appunto di sostenere anche questo evento culturale e appunto dando una linea guida diversa agli studenti di oggi per quanto riguarda appunto il loro percorso post-universitario qual è la differenza che si sente anche fra le vecchie generazioni e le nuove generazioni di studenti e che la Fondazione può oggi sostenere anche a Civitavecchia? Ma fra le vecchie generazioni quindi la mia probabilmente e le nuove c'è una differenza sostanziale cioè mentre probabilmente per quello che riguarda le cosiddette vecchie generazioni c'era un tipo di studio molto diverso, molto basato sulla nazionistica ancorché anche approfondito. Oggi è uno studio che vede più possibilità, vede la possibilità di diversificare la materia didattica da altre situazioni molto importanti che sicuramente mirano ad allargare sempre di più i orizzonti. È chiaro che questa è un'iniziativa per esempio emblematicamente valida proprio per questo motivo, cioè qui ci troviamo oltre mille persone da tutta Italia a partecipare a un qualche cosa di diverso. È molto bello anche il sito, io rivolgo l'invito a me stesso e agli organizzatori spero che quest'altro anno si possa fare presso i locali dell'Università di Civita Vecchia perché proprio serve a dare questo continuum fra una parte degli studi e l'altra. Quindi ritengo che su questo il territorio deve crescere perché il discorso dell'Università è un discorso che interessa tutto il territorio e quindi tutti i giovani debbano e possono partecipare a questo tipo di iniziative. E cambiamo argomento, otto misure di custodia cautelare sono state eseguite all'alba di oggi a Ladispoli. L'operazione Station Drug condotta dai carabinieri di Civita Vecchia e coordinata dal sostituto procuratore Margherita Pinto ha di fatto sgominato un giro di droga che si sviluppava nella piazza di fronte alla stazione ferroviaria di Ladispoli. Gli otto raggiunti dalle misure restrittive sono tutti di Ladispoli tranne uno che invece è residente a Roma nel quartiere Casalotti. Quest'ultimo è ritenuto il fornitore della droga agli spacciatori Ladispolani. Oltre a lui sono finiti in carcere altri tre giovani mentre per due sono scattati gli arresti domiciliari e per gli ultimi due l'obbligo di dimora. Il giro di droga tra hashish e cocaina era piuttosto ampio e forniva sostanzialmente tutti gli assuntori del paese e della zona limitrofa. E ancora droga in primo piano, cocaina nascosta sotto la parruca ecco uno degli ultimi strategiemmi usati per eludere i controlli delle forze dell'ordine in aeroporto a Fiumicino ma le due donne dalla folta a Chioma non sono passate inosservate i controlli della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Roma che all'aeroporto di Fiumicino ha arrestato tre corrieri e sequestrato circa sei chili di droga. Una donna di nazionalità portoghese proveniente dal Brasile diretta a Lisbona era da poco sbarcata agli arrivi internazionali ed è stata controllata dai militari del gruppo di Fiumicino e dei funzionari dell'Agenzia delle Dogane incuriosite per la strana capigliatura della passeggera. Infatti nell'acconciatura della parruca è stato trovato circa un chilo di cocaina. Un'altra donna originaria della Guinea, Bissau, anche lei proveniente dal Brasile ma diretta in Spagna aveva tirato l'attenzione dei finanzieri per l'incedere frettoloso ed il nervosismo con cui ha risposto alle prime domande. Sulla sua testa pesava non una taglia ma oltre un chilo di cocaina nascosta in un involucro alla base della parrucca. Meno fantasioso un cittadino italiano proveniente da Buenos Aires è diretto a Roma che ha invece tentato di introdurre circa 4 chili di cocaina occultandolo in un doppio fondo ricavato in un bagaglio al seguito, uno dei metodi più utilizzati dai narcotrafficanti. I carichi di polvere bianca intercettati avrebbero potuto fruttare alle organizzazioni criminali oltre un milione di euro. I tre corrieri sono stati tutti arrestati per traffico internazionale di stupefacenti e trasferiti nel carcere di Civitavecchia. Parapiglia in pieno centro a Tarquinia dove nei giorni scorsi è fuggito ai controlli un latitante romeno poi rintracciato dai carabinieri a Viterbo. Tutto è venuto a Piazzale Europa nel cuore del centro storico di Tarquinia dove si trovava una pattuglia dei carabinieri. I militari hanno intimato all'alto ed un'auto che viaggiava con tre persone a bordo, due romeni e un imprenditore di Ledi Terni. Durante le verifiche sui documenti uno dei due romeni all'improvviso è sceso dalla macchina ed è fuggito a piedi. Ne è subito scaturito un inseguimento. L'uomo, ricercato per reati contro il patrimonio commessi in Romania e in Italia, è fuggito tra la gente che ha tentato di bloccarlo facendogli anche gli sgambetti. Il trentenne però, nonostante le ripetute cadute, ha riuscito a fuggire tra le sterpaglie ai piedi di una struttura ricettiva facendo perdere le proprie tracce. Altre pattuglie dei carabinieri sono state subito allertate ed hanno effettuato posti di blocco. Ma dello straniero più nessuna notizia. Subito i militari del luogotenente Girelli hanno avviato indagini incrociate per risalire a parenti ed amici del fuggitivo che potevano averlo ospitato. Ed è così che il trentenne raggiunto da mandato di carcerazione europeo è stato trovato dai carabinieri all'interno di un appartamento di Viterbo. Dovrà scontare una pena di due anni e sei mesi. Il sindaco di Montalto di Castro Sergio Caci si rivolge al comitato giù le mani dalla farmacia che nei giorni scorsi lo ha accusato di aver cestinato la raccolta firme contro la vendita. Naturalmente, dice subito Caci, le firme non sono state cestinate o ho avuto già modo di confrontarmi con i promotori dell'iniziativa. È la seconda volta però che vengono raccolte firme con metodi non chiari. Infatti, anche se per motivi diversi, ad ogni raccolta firme comincia una processione presso l'ufficio del sindaco di persone che mi vengono a chiedere per cosa hanno firmato. La controprova sta nel fatto che alcuni cittadini hanno sottoscritto due volte la stessa petizione come nel caso della farmacia. Non ricordarselo palesa un non coinvolgimento e una scarsa informazione. Detto questo, prosegue Caci senza raccogliere altre firme ricordo al comitato che qualsiasi consigliere comunale potrà presentare una mozione al prossimo consiglio che ha la stessa valenza della petizione. E' grande partecipazione all'Assemblea ordinaria elettiva dell'Avis di Santa Marinella. I donatori, dopo la presentazione della relazione associativa del bilancio consultivo e della relazione programmatica, hanno votato il rinnovo del consiglio dirittivo che, riunitosi nella prima seduta in occasione della serata della ricorrenza del 25esimo anniversario della fondazione, ha proclamato all'unanimità Eugenio Fratturato Presidente e rispettando la proposta dei soci che durante l'Assemblea avevano manifestato la volontà della riconferma del massimo responsabile cittadino. Il lavoro svolto in questi anni da Fratturato ha permesso all'Avis di Santa Marinella di conquistare il primato di città visina della provincia di Roma con la maggior percentuale di incremento delle sacche raccolte. La sua riconferma presidenza ne è un giusto riconoscimento. L'Avis in questi ultimi anni, dice Fratturato, stanno procedendo ad una rivisitazione della conduzione e gestione di tutte le procedure necessarie per ottimizzare ogni aspetto della vita associativa e questo comporta un aggravio di lavoro e di oneri burocratici che impongono ai volontari continui corsi di formazione e di aggiornamento. I soci dell'Avis di Santa Marinella costituiscono una delle realtà più produttive per il grande impegno e partecipazione. Ed ora passiamo alla consueta pagina sportiva. Una goccia di fair play in un mare di maleducazione che è uno dei problemi del calcio dal punto di vista sociale sia all'estrema maleducazione che regna sovrana e noto a tutti. Per questo vedere gesti come quelli di De Santis fatti dopo una partita importante e persa in casa fa ancora più piacere. Il dirigente del Civitavecchio a calcio infatti ha spronato i suoi tesserati prima di andare a stringere la mano agli avversari, vincitori sul campo e poi ha praticamente costretto il centrocampista Mereu a chiedere scusa all'arbitro visti i tanti insulti che gli aveva rivolto dopo che questo lo aveva espulso. Gesti di fair play purtroppo rari in questo mondo che avremo il piacere di vedere più spesso. Ha giocato la sua prima partita nel campionato di promozione di palla a nuoto la centuncelle del tecnico Cimino. La formazione si è imposta 7-3 in casa contro il Blu 3000 iniziando nel modo migliore il suo nuovo cammino. E va la formazione dell'ASP il derby di prima divisione femminile di palla a volo. Le ragazze del tecnico Taranta hanno battuto infatti per 3-1 fuori casa le colleghe del CV Volley, rimanendo seconde in classifica ed appena due punti dalla prima. E noi ci fermiamo qui, il telegiornale Alto Lazio torna come sempre alle 19.45 circa. Grazie a tutti per la cortesia e attenzione. Arrivederci. Grazie a tutti.